Ed eccoci di nuovo in studio, abbiamo sentito dalla nostra redazione gli aggiornamenti anche sul processo che vede la richiesta del pubblico ministero a sette anni per Fede Mora Minetti. Bene, c'è un'ultimissima ora che poi la nostra redazione approfondirà. Berlusconi, un virgolettato, da IPM inaccettabili le ricostruzioni su Rubi. Credo si riferisca sostanzialmente alla prova portante che tutte le persone citate fossero a conoscenza, per una serie di esempi fatti, della minorità di Rubi. Allora, un'altra notizia, un aggiornamento, avevamo dato nella prima ora perché era appena uscita la conferenza stampa, questo ampliamento per quanto riguardava l'eco bonus, sgravi sull'edilizia ma estesi anche ai mobili. Le agevolazioni confermate per il 2013 sul risparmio energetico ma il tetto arriva anche a 10.000 euro per l'acquisto di arredi fissi quali cucini e armadie a muro. Questa è una notizia che vede felice per esempio l'associazione Federlegno che dice è importante che i consumatori possano sapere nel dettaglio che cosa questa estensione può assicurare. Ci torniamo tra un attimo anche grazie all'esperienza onorevole ma prima volevo sentire il fumagalli su quello che abbiamo commentato un attimo fa e anche sulla telefonata di Maria Luisa. Io noto due cose, uno poi conosco bene Elena Centemero quindi so che se parla per sé si dice responsabile quello che dice fatto salvo che non c'è un politico, un amministratore, un eletto in generale che abbia la voglia di prendersi la responsabilità di qualcosa. Non gli si dice ovviamente fatti carico degli ultimi 30, 40, 50 anni di furberie ma almeno dire bene da qui in avanti l'obiettivo è quello se non ci arrivo ho sbagliato torno indietro. Voglio dire la responsabilità è una cosa importante il fatto che da nessuna parte e vedi adesso la questione del finanziamento ai partiti se è un fallimento o se fosse la solita così anacquata norma che cerca di arrivare da qualche parte. Non pensiate che qualcuno poi dice forse abbiamo sbagliato, diranno che è la costrizione, siamo stati obbligati, il momento storico, la coperta è corta, non abbiamo la bacchetta magica. Meglio di questo non riuscivamo a fare, certo. E' perbacco, andiamo avanti a frasi fatte, cioè voglio dire almeno nel verbo proviamo ad essere un po' più articolati con gli amministratori. Un commento anche su quello che diceva Maria Luisa sui 3 miliardi perché anche io volevo commentarlo per la promozione del vino all'estero. Allora, la nostra agricoltura ha bisogno, credo, e anche le nostre aziende vinicole di far emergere questo Made in Italy. Io non sono nel settore, non so dirle se sono pochi, se sono tanti, se uno ne ha uno spreco, però laddove ci sono degli investimenti che portano a far muovere l'economia mi sentirei di dire proviamoci da qualche parte. La gente giustamente rincorre, ed è così per tutti, per noi ceti normali, rincorriamo il mille euro e quindi sentir dire sono stati spesi un milione, due milioni, un miliardo, sembra sempre... Certo, ma ricordiamo l'indotto vinicolo dell'Italia che va dall'alto delle nostre montagne fino alla Sicilia. E poi non generalizzare sempre, se no facciamo confusione, una cosa del genere, magari è buona, magari no, lo sapremo. Se poi ragione la Lombardia, fossero anche sui nostri vini della Lombardia, quante aziende che stanno cercando di stare in piedi. Anche perché poi si promuovono i nostri vini, i vini italiani all'estero, pensando che aumenti la richiesta di export. Le nostre aziende stanno reggendo in questo momento solo grazie al consumo estero, cioè all'export, non certo per il consumo interno. Poi mi voglio... Io sono abituata ad essere forse diversamente da altri politici, però sono franca e quando sbaglio lo dico e quando mi prendo le responsabilità me le prendo tutte fino in fondo. Per cui faccio un esempio molto pratico, molto piccolo potrà sembrare, nel settore riguardo a una responsabilità che è colpa nostra sostanzialmente, che ci stiamo prendendo insieme ad altre forze politiche che io mi sto prendendo per cercare di risolvere, è quello degli esodati del mondo della scuola. Perché la riforma Fornero non ha creato solo degli esodati nel mondo... Senza nome, certo. Esatto, ci sono la famosa quota famosa, si chiama quota 96, sono gli esodati della scuola, personalmente come popolo della libertà, come responsabile nazionale della scuola mi sto occupando di questo, insieme ad altre forze politiche, probabilmente ce la faremo a risolvere questa situazione che riguarda 3500 persone, in questo caso se è sbagliato, perché noi abbiamo votato, ci stiamo cercando di risolvere concretamente la cosa. Io lo stavo dicendo perché quando io dico che non ci sono bacchette magiche, è anche questo un senso di responsabilità. Io non voglio promettere cose che non sono realizzabili sostanzialmente. Tutto qua, adesso l'impegno dal punto di vista economico sarà quello di cercare di mantenere, di diminuire l'IVA. Non è personale, però anche lo sforzo di cercare cose realizzabili, perché in questo momento di promesse ce ne sono ben poche da fare, però qualcosa bisogna fare, altrimenti c'è rischio più la democrazia, non so se riesco a spiegarmi, la politica si arrende. Assolutamente. No, no, io sono d'accordo, assolutamente vero, ci sono a rischio tante cose in questo momento. Sarebbe bello, ma forse chiedere troppo, che invece che, come dire, farsi la guerra tra partiti, o abbattere l'ultimo arrivato, in questo caso è Grillo, che poi da solo si tira degli sgambetti notevoli. Però, voglio dire, adesso c'è anche un po' la corsa al mantenere il colore della maglia, no? Allora tornano i vecchi patriottismi di partito, i campanellismi di partito. Vanno benissimo, fatto salvo che non ci portano certo ad aumentare il benessere, a ritrovare il lavoro mancato e tutto il resto. Cioè, la politica si dà grande affare per parlarsi addosso, è molto metapolitica, no? Se la suona e se la canta, l'80% di quello che leggiamo è delle dichiarazioni, e degli impegni, e delle conferenze, eccetera, eccetera. Il restante 20, ci si augura che sia fatto al meglio, con tutto, che però i cittadini spesso sono talmente esasperati che adesso addirittura si lamentano a 360 gradi rischiando degli scivoloni. Però è anche comprensibile, no? Che siano un attimo confusi. Io comprendo la confusione perché non facendo... Non è che si attende. No, 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 ma io cerco di essere onesta perché mi sembra che sia giusto nei confronti dei nostri elettori, dei cittadini, perché non avrei mai accettato per come sono fatta io di fare politica. Premesso che io non vengo dal mondo della politica, cioè sono prestata, ho un mio lavoro, non farò più politica. Tornerò al mio lavoro, quindi al mio stipendio, e quindi questo deve essere un punto di partenza forte. C'è un grande disorientamento, c'è un grande disorientamento generale perché non si hanno risposte concrete a tutti i livelli, ma non solo della politica, perché noi dimentichiamo chi fa applicare le leggi. Cioè esiste anche tutta un apparato burocratico di funzionari, di che hanno una grandissima responsabilità in questo. Cioè non possiamo negare, ciascuno ha delle sue responsabilità ben precise. Ecco, se le prenda, la politica se le prenda, come se la devono prendere altre persone. Poi, per quanto riguarda il risultato delle amministrative, è chiaro che è un risultato molto leggibile da tanti punti di vista. Sicuramente, come lo leggo... Tanti, mica tanti, hanno perso tutti. No, no, no.